E' un risultato importante, finalmente la lingua sarda trova cittadinanza nel servizio pubblico, nella RAI e avremmo affermato il nostro diritto a tutelare la nostra storia, la nostra cultura, la nostra identità. Sarà un grande laboratorio, una vetrina importante per tutti i territori, per tutta la cultura che nel nostro territorio insiste e pensate alla possibilità di poter fruire sul servizio pubblico per giovani e adulti di una programmazione dedicata in lingua sarda, esattamente come accade in tante altre regioni del mondo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS